Petrolio sì, petrolio no. Il dibattito si è riacceso su un tema che già in passato ha tenuto banco. Oggi, dopo la conferma del parere positivo espresso dalla Commissione via VAS per la ricerca di idrocarburi nell'area Monte Cavallo, al ridosso del territorio valdianese, si torna a parlare del tema. Pietro Cusati, nel corso del suo programma Angolo Cusati, ha voluto mettere a confronto le due ipotesi presentate dal presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, e dal consigliere comunale di Padula Giovanni Cancellaro, al fine di consentire una valutazione ampia del tema. Favorevole al petrolo il consigliere comunale di Padula ed imprenditore Giovanni Cancellaro, che ha esposto quelli che a suo parere possono essere i vantaggi anche in tema di tutela della salute, sottolineando come il Vallo di Diano sia un territorio che necessita di investimenti in materia di bonifica, visti numerosi casi di morte per tumore che si registrano, parlando anche di sversamenti in epoca passata di rifiuti tossici. Io da imprenditore, parlo da imprenditore, ma anche da amministratore, non possiamo dire no ogni volta che c'è la possibilità di avere quello che ci serve, ossia i fondi, a far sì che i ragazzi e i giovani possano restare sul territorio, a finanziare quella che è una sanità carente, a finanziare quella che è una bonifica del territorio, che in questo momento sta portando un alto tasso tumorale, perché sappiamo benissimo, però ci giriamo intorno, che si è permesso negli anni precedenti degli sversamenti nei nostri territori e ci sono delle aree da bonificare, ma ancora nessuno ha preso provvedimenti. E si pensa, o perlomeno si è accertato, che queste aree producono un alto tasso di tumore. E quindi ancora sono lì e nessuno prende i provvedimenti. C'è un'università, ci sono delle logiche scolastiche da portare avanti, ci sono delle strutture da poter finanziare, tutto ciò che è necessario affinché si crei uno sviluppo che possa determinare la permanenza di chi ci abita, dei giovani o addirittura trarre giovani nei posti lipidrofi. Questa è la mia idea. Tema sviluppo ma anche tutela dell'ambiente rischio sismico sono state le ragioni per il no espresse dal presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che ha ribadito anche il concetto della vocazione del territorio fortemente agricola e che punta sulla biodiversità. Eventuali estrazioni petrolifere sarebbero, a parere del presidente Accetta, incompatibili con tali idee di sviluppo. Non è vero che nella nostra area non c'è stato sviluppo in questi 20 anni e che non lo si vuole vedere oppure si vuole ritenere che si faceva riferimento al fatto delle eccellenze. E chi l'ha detto che laddove c'è l'attività petrolifera restano le eccellenze? Da quello che mi risulta e da quello che hanno in tante occasioni, almeno negli ultimi anni, riferito i colleghi sindaci della vicina Val d'Agri, sono amaramente pentiti di quello che è successo in quell'area perché è ovvio che i vantaggi sono di pochi e non di molti, perché è naturalmente finita l'agricoltura, vi è uno spopolamento, vi è naturalmente una riduzione anche di quelle che sono le varie attività che in quell'area si svolgevano. E d'altra parte non è una novità che anche la TV nazionale, in più di un'occasione, ha preso di mira quell'area non ultima 15 giorni fa presa diretta per gli incidenti che il più delle volte sono stati causati da un malfunzionamento del centro oli di Vigiano.